Allora, oggi parliamo di come razionalizzare, cosa vuol dire razionalizzare una frazione. Abbiamo di solito una frazione con un radicale a denominatore. Vogliamo far razionalizzare vuol dire eliminare la radice a denominatore, perché eliminando la radice a denominatore l'approssimazione di questa frazione è più precisa. Quindi, normalmente, quando si ha una frazione con una radice, un radicale a denominatore, il passaggio finale di tutte le espressioni è proprio eliminare la radice a denominatore, come quando noi semplifichiamo una frazione. Quindi, come si fa a togliere la radice a denominatore, quindi a razionalizzare? Vedremo oggi due casi. Primo caso, un solo radicale a denominatore, come in questo caso. Un esempio, 1 fratto radice di 3. Allora, che cosa si fa? Si riscrive 1 fratto radice di 3 e si moltiplica entrambi il numeratore e il denominatore per lo stesso radicale che abbiamo a denominatore, quindi per radice di 3. Perché? Così facendo, radice di 3 per radice di 3 viene radice di 9, che semplifichiamo e diventa 3. E sopra, rimoltiplichiamo, rimane radice di 3. Quindi, a quel punto, il risultato finale è proprio aver eliminato la radice a denominatore e averla portata a numeratore. Quindi, quando io ho una solo radicale a denominatore, basta moltiplicare sopra e sotto per lo stesso radicale. Vediamo il secondo caso, caso B. Ho anche qua un solo radicale, però davanti ho un coefficiente. Allora, che cosa facciamo in questo caso? Riscriviamo la frazione e moltiplichiamo sopra e sotto per solamente il radicale, quindi per radice di 5. In modo tale che nella moltiplicazione sopra rimane radice di 5. Sopra questi due si moltiplicano tra di loro e, quindi si semplificano, 2 per 5 fa 10. E il risultato è aver avuto la radice a numeratore. Questo moltiplicare sopra e sotto per lo stesso numero equivale a moltiplicare per 1. Quindi non altero niente, perché moltiplicando per 1 rimane la stessa frazione di partenza. Altro caso, caso C. Ho un solo radicale a denominatore, ma l'indice è diverso da 2. Vedete, qua c'è 2, qua c'era 2, questo è 3. Come si fa a eliminare la radice a denominatore? Allora, riscrivo la stessa frazione e moltiplico per che cosa? Devo fare in modo che la radice sparisca. La radice sparisce se l'esponente è uguale all'indice della radice. Allora, devo trovare un radicale che faccio in modo che nella moltiplicazione l'esponente del radicando diventi uguale all'indice della radice, in questo caso uguale a 3. Quindi devo moltiplicare radice di terza di 2 per radice terza di 2 alla seconda. Così facendo, questi due mantengo la stessa radice e sommo gli esponenti proprietà delle potenze. 2 più 1 fa 3 e mi rimane radice terza di 2 alla terza. Il 3 col 3 si semplifica, rimane 2 e sopra la moltiplicazione rimane. Facciamo un altro esempio per chiarire. Vediamo un po'. Dobbiamo invece razionalizzare 1 fratto radice quinta di 2 alla terza. Riscrivo ancora la frazione, moltiplico sopra sotto, io qua 2 alla terza dovrei arrivare a 2 alla quinta per poter semplificare. Quindi moltiplico sopra e sotto per 2 radice quinta di 2 alla seconda, perché è il 3 più 2 fa 5. A questo punto, moltiplicando, mantengo lo stesso indice, quindi radice quinta di che cosa? 2 alla terza per 2 alla seconda fa 2 alla quinta. Così semplifico e va via il 2. Quindi ho questo primo caso, in tutti e tre i casi, eliminato la radice a denominatore, ma avevo un solo radicale. Vediamo cosa succede quando invece ce n'è più di 1. Ce ne sono 2. Allora, se ce ne sono 2, che cosa succede? Caso A. Supponiamo, quindi ho due radicali. 1 fratto radice di 2 meno radice di 3. Come si fa a fare andare via la radice? Si riscrive la frazione, si riscrivono i due radicali così come sono, e in mezzo, se qua c'è il meno, metto il più. Se invece qui c'è il più, come nell'esempio dopo, metterò il meno. In altre parole, se a denominatore ho una somma di due radicali, moltiplicherò per la loro differenza. Se ho una differenza, moltiplicherò per la loro somma, sempre sopra e sotto, uguali, perché così è come se moltiplicassi per 1. E che cosa succede? Allora, sopra rimane uguale perché moltiplico per 1. Sotto ho un prodotto notevole, perché ho una differenza per una somma. Quindi voi sapete che quando ho un prodotto notevole si moltiplicano solo i monomi che sono simili tra di loro. Quindi avrò, in questo caso, i radicali. Radice di 2 per radice di 2 che fa 2, radice di 3 per radice di 3 che fa 3 e in mezzo il meno. Quindi 2 meno 3 che fa meno 1 e poi arrivo a questa frazione. Radice di 2 più radice di 3 fratto meno 1. Questo meno 1 sapete che dovete portarlo a numeratore. Quindi stesso ragionamento sotto, abbiamo detto, c'era una somma, moltiplichiamo per la differenza. Radice di 2 per radice di 2 fa 2, radice di 3 per radice di 3 fa 3, 2 meno 3 fa meno 1 e il stesso ragionamento portiamo su. Vediamo l'altro caso invece. Sempre somma, però questa volta ho radicali. Allora, ho un radicale che però ha un coefficiente davanti e un numero che non è un radicale. Allora, stesso ragionamento. È uguale al, siamo nello stesso caso, dell'esercizio precedente. Quindi ho sempre una differenza. Siccome ho una differenza, moltiplicherò, riscrivo lo stesso, la stessa frazione, moltiplicherò per gli stessi due addendi, quindi due radici di 2 e 3, e in mezzo metterò, se qua c'è il meno, metterò il più. Metto il più e che cosa succede? Succede che sopra rimane uguale, sopra moltiplicherò, due radici di 2 per radice, due radici di 2 rimane 2 per 2 che fa 4, radice di 2 per radice di 2 che fa 2, 4 per 2 fa 8, quindi 8, meno 3 per 3 che fa 9. 8 meno 9 fa meno 1, questo meno 1 abbiamo detto, l'ho portato su e rimane davanti alla parentesi. Grazie. Grazie.